allora mi spiace dirlo ma se volete avere la sfortuna sfacciata che ho avuto io quest'anno nei boschi vi tocca mettere un like al canale altrimenti questi funghi qui fate fatica a trovarli questo probabilmente lo lascio proprio perché mi sembra un po' andato poi ha preso un bel po d'acqua questo invece mi sembra molto carino vediamo sì dai questo lo possiamo lasciare ha un bel gambo eh però lo lasciamo dai lasciamolo sporare non prendiamo tutto quello che c'è tanto secondo me oggi è già stata una bella cavata tra l'altro sono qui da pochissimo ma praticamente ho fatto già mezza zerla che i funghi sono giganteschi guarda qua ah sì dai preferisco questo ho preso un pochino d'acqua però è comunque bello